Presidente Iori, in una situazione drammatica come quella molisana, la regione molise non si fa mancare le cose comiche. Il caso dei treni, una regione che deraglia, l'assessore Nagni propone l'acquisto di treni che, dimostrato ampiamente, deragliano. Io credo veramente che qualcuno stia recitando Alice nel Paese della Meraviglia, perché questo governo regionale non finisce mai di stupire. Sulla politica dei trasporti è inutile dilungarsi, è assolutamente inefficace, inutile, che ha prodotto solo guasti. Siamo a fine legislatura e ancora non c'è niente di nuovo né di riorganizzato. La vicenda dei treni swing, che vengono presentati dall'assessore come un'ulteriore meraviglia per il Molise, perché sono treni nuovi e che assicureranno i viaggiatori, veniamo a sapere che invece sono stati ritirati in altre regioni d'Italia perché sono treni che hanno pericolosi ai fini di un possibile deragliamento per i difetti del telaio. Quindi un altro annuncio delle meraviglie che veramente io credo rasenta il comico se non fosse invece una cosa molto seria. Ecco, tornando alle cose serie alla politica, attorno a Frattura si sta sgretolando un mondo. Una parte del centrosinistra lo ha lasciato, il senatore Ruta in testa, Danilo Leva, insomma, è un uomo solo. Io credo che ci sia un problema sicuramente politico serio perché la maggioranza che ha vinto queste elezioni non esiste più. Sul piano dell'interpretazione democratica dei processi, anche nei processi amministrativi, comporta la responsabilità complessiva di un governo sostenuto da una parte di popolo rappresentata anche dai movimenti e dai partiti. Oggi sappiamo, se verranno confermate le posizioni, che questo governo regionale non è più supportato da una maggioranza politica e ha una maggioranza molto posticcia che si poggia su un solo voto, dalle ultime espressioni in Consiglio regionale, e che oltretutto soffre di tali problemi per cui si rinviano i consigli regionali per l'assenza di una sola persona. Consiglio regionale che non si riunisce più ogni settimana, ma che tende a riunirsi ogni 15 giorni, e quando si riunisce viene sospeso perché manca uno. Mi sembra che ci sia un vero e proprio allarme democratico, non se ne può più. Ecco, l'impressione che hanno i cittadini è che da qui a febbraio ci attendono dei mesi di agonia e basta. Beh, ci attendono dei mesi molto complicati. Noi saremo molto vigili in questo periodo perché non mancano spunti che interferiscono anche sull'acquisizione del consenso, sulla base di nomine, di provvedimenti e di cose sulle quali vorremmo vederci chiaro. L'ultima questione, noi nei prossimi giorni presenteremo una richiesta di accesso agli atti per verificare tutto il sistema dei pagamenti, perché abbiamo l'impressione che nel sistema dei pagamenti non ci sia il rispetto della regola tassativa dell'ordine cronologico, ma con il ritardo dell'istruttoria alcune imprese vengono pagate, altre no. E su questo faremo chiarezza, cioè tenteremo di fare chiarezza o vorremmo essere assicurati che le procedure siano assolutamente libide e trasparenti. Una battuta su un tema sempre caldo, la sanità, l'approvazione per legge del piano operativo straordinario. Rumori che arrivano dall'interno dell'ASREM parlano addirittura di un autogol di frattura. Beh, credo che sia un elemento molto grave perché il Parlamento, il Governo nazionale in qualche modo ha messo il bavaglio al Molise, l'autonomia del Molise non esiste più in tema di sanità nemmeno con un confronto in Consiglio regionale. Noi abbiamo già chiesto, stiamo chiedendo in questi giorni un consiglio monotematico da riunire di urgenza sui problemi dell'approvazione dell'articolo 34 della legge recentemente approvata in Senato perché il Consiglio regionale, spero, voglia prendere posizione anche su questo argomento e sarà quella l'occasione per fare chiarezza su tanti altri aspetti. Grazie.